Benvenuti a Bangalore! Ho dormito una cosa tipo un'ora, ma evviva! Ci siamo! Ciao ragazzi, buongiorno, sto facendo un video corto per il mio canale, il mio canale YouTube, sì, esatto, allora sono arrivata, sto parlando in italiano, sorry Satish, posso fare un video per te anche? no? No! Hi Satish! You will become very famous now in Italy, in Italy! Allora sono arrivata, sono a Bangalore, c'è un tempo nuvolosissimo, danno di dormire un pochino perché questa sera si canta e siamo in India! Eccoci qui, sono a Bangalore e non ho filmato prima perché volevo godermi un pochino, ho conosciuto i musicisti della band con cui dobbiamo suonare questa sera e quindi abbiamo pranzato tutti insieme e volevo godermi questo momento, non ho filmato e adesso abbiamo un po' di tempo per riposarci, non ho dormito nulla, quindi ho bisogno di riposare un attimo e poi partiamo, facciamo soundcheck e si canta. E anche in India è arrivato l'elefante col tutu! Siamo nel camerino e ci sono dei fantastici musicisti, adesso ve li faccio vedere, che stanno provando, stiamo provando prima di salire sul palco. qua si ripassano le canzoni, si ripassano i ritmi. We are ready to go in a while! vecchio pazeggi addio, groove lo canano! questo è un po' di testandolo in vita, vediamo l'hu πολimento. Non si ripassano le canzoni, cambiano le canzoni. Capisco i pe الس torti foto uniforme, pressore l'油 a motorbre Rebelati sullamente tra Coi! eg estodo aveva un po' verticale! Grazie. Grazie.